Adesso chiamo la dottoressa Simonetta Bonomi per il suo intervento. Ovviamente Simonetta la salutiamo tutti con particolare affetto e riconoscenza. Ha vissuto in primis queste conoscenze e queste ricerche legate all'agrocenturiato a partire da quando come collaboratrice della sovrintendenza come ho accennato era attiva a Padova. Poi è stata funzionaria della sovrintendenza nell'area di Ostiglia inizialmente, non sbaglio, e si è poi trasferita a Padova. È stata ovviamente accurata il nostro territorio, l'ha seguito con attenzione, è stata direttrice del museo anche di Adria. La sovrintendenza è stata sovrintendenza in seguito a Reggio Calabria nella sua poi sovrintendenza come sovrintendente nel territorio di Barletta, Trani, Andria. E Foggia anche, anche Foggia, quindi piuttosto articolato il suo percorso per portarsi poi alla sovrintendenza di Trieste prima di giungere alla conclusione della sua attività diciamo professionale. Continua ad essere attiva ed è presente anche oggi per illustrarci un aspetto che è particolarmente interessante, una via di cento piedi, il decumano massimo appunto, dati emersi dallo scavo di Beverare. Grazie. 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 Come si può dire, io c'ero, ecco. Sono arrivata un po' dopo, ma c'ero. Ho cominciato a esserci con l'anticopolesine ed è stato un periodo di grandi discussioni, di confronto. Ecco, devo dire, un periodo molto divertente, molto stimolante. Non posso dimenticare e vorrei anche ricordare che come giovane, così aspirante archeologa, non ero sola, ma con me ha lavorato tantissimo Alessandra Toniolo, che poi ha lavorato anche molto qui a Villa Dose. Allora, intanto vi annuncio subito una delusione, l'intervento che mi è stato affidato da Enrico con questo titolo così. Vi annunciavo una delusione, perché in realtà questa via di cento piedi, che appunto Enrico Maragno voleva che io mettessi in evidenza, in realtà qui compare poco. Ecco, ecco, compare indirettamente. Non ho una documentazione degna di questo nome, se non quello che gentilmente mi hanno passato il gruppo archeologico di Villa Dose e Raffaele Peretto. Nonostante queste lacune, cercherò di almeno riportare l'attenzione su questo lavoro che è avvenuto 25 anni fa giusti, quindi un quarto di secolo fa, e che ha avuto in realtà, dal punto di vista dell'analisi del funzionamento della bonifica romana, cioè della centuriazione di Villa Dose, ovvero della centuriazione dell'agro romano di Adria, ha avuto per la sua, diciamo, per la definizione dei suoi meccanismi. Allora, dove ci troviamo? Ecco, di cosa parliamo? Siamo comune di San Martino di Venezia, località Beverare, che già fa pensare, questo mi suggeriva mio marito, già mi fa pensare a luoghi umidi. Beverare sono i castori, ecco, sono specchi d'acqua popolati da castori, è un toponimo medievale che già ci rende l'idea della situazione dopo il crollo dell'impero romano. Il luogo dove abbiamo fatto l'indagine era a lungo via Radetta, in proprietà Carrari, e ancora adesso ringrazio la proprietà perché, pur con l'iniziale sgomento, ha poi collaborato. Lo scavo, appunto, è del 1999. Nel punto rosso che vedete nella mappa, che è sempre una delle mappe di Raffaele Peretto, è segnato dove si trova l'area di dove siamo intervenuti. Siamo lungo il decumano massimo, effettivamente, della centuriazione. Allora, perché siamo andati a finire lì? Ecco, perché il sito, nel primissimo periodo di attività del gruppo archeologico di Villa Dose, era già stato identificato, aveva una sua sigla, A57, Adria 57. Poi, in realtà, nell'implementazione delle schede, dei siti, ho visto che ha anche un altro numero, questo A180, che riguarda sempre l'area del nostro intervento. Ora si capirà perché in realtà abbiamo una duplicazione, perché noi abbiamo fatto saggi in diversi punti di questa grande proprietà fondiaria e in realtà abbiamo toccato diverse evidenze archeologiche, ma tutto parte da A57. A57, per il tipo di reperti rivenuti in superficie, era inquadrabile come una villa rustica, delle tante che ci sono nell'area della centuriazione. Ecco, e quindi era una zona attenzionata. Grazie alla segnalazione del Gavle, e qui bisogna aprire una doverosa parentesi, se non ci fossero stati loro, la rete di contatti, segnalazione, rapporti, questo tipo di indagini sarebbe sfuggito. Perché questi erano lavori di miglioria fondiaria, che non hanno distrutto o portato alla luce un edificio, ma hanno portato alla luce le tracce di canali e canaletti e fossati della centuriazione. Quasi quasi era difficile davanti a un tribunale dimostrare che questa era distruzione di patrimonio archeologico. Il giudice avrebbe fatto fatica a capirci. Per noi, invece, erano dati di un'enorme importanza. Grazie all'intervento di Raffaele Peretto, che è sempre stato presente in questi periodi di attività, è stato anche possibile trovare un finanziamento della Banca del Monte di Rovigo, che, devo dire, in tante occasioni ha dato una mano fondamentale per queste indagini. Questa foto che voi vedete è quella a cui ci siamo trovati davanti iniziando il lavoro a Beverare. La miglioria fondiaria prevedeva, ahimè, un enorme sbancamento, che è arrivato a toccare strati che in realtà sono sterili e che presentavano i fondi di questi scoli di varia gerarchia, vario formato della centuriazione. Questa è un'altra panoramica quando abbiamo cominciato a scavare. Gli scavi che sono avvenuti in due tranche sono stati eseguiti da Claudio Balista e da Luca Rinaldi. E prontamente pubblicati, ecco, vorrei subito chiarire, sui primo volume dei quaderni di archeologia del Polesine c'è questa lunga relazione di Claudio Balista in cui vengono descritti gli esiti delle indagini dal punto di vista sedimentologico, geomorfologico, idraulico e a tutte le conseguenze del caso. È un'analisi raffinatissima, sofisticata direi, che ha portato a delle conclusioni importanti per capire le dinamiche della centuriazione. Come avverte Claudio stesso nel suo articolo è chiaro che bisogna stare un po' attenti nel generalizzare il modello perché qui ci troviamo nella zona nord della centuriazione e sarebbe stato bello o sarà bello quando avverrà poter eseguire indagini simili in altri punti dell'agrocenturiato per poter vedere se il modello vale per tutti oppure no. Ecco, questa è una bella foto che anche questa è già nota e pubblicata della parte di questo intrico di Canalette che è stato davvero difficile poi riuscire a sciogliere e a dargli un ordine, una logica almeno cronologica e funzionale e adesso non mi addentro in questo ginepraio ma rimando sempre a chi fosse interessato alla lettura dell'articolo di Claudio Balista per, diciamo, tutte le analisi. Io vi darò un riassunto semplificato, molto breve. Intanto, se quella di sinistra si vede poco allora questo è lo schema dei saggi allora, come vedete, nell'ambito della proprietà sono stati eseguiti diversi saggi se guardate l'immagine di destra decisamente più nitida allora, in alto a sinistra c'è l'ampia area cosiddetto saggio nord-ovest dove c'era appunto quell'intrico di Canalette che abbiamo visto prima. Le indagini poi però si sono portate allora, in primis verso A57 cioè la villa la villa che doveva essere era stata individuata come affioramento superficiale neanche allora è stata indagata come consistenza come sarà la camotte, insomma è stata fatta una perimetrazione in modo da vietare l'esecuzione dei lavori di miglioria fondiaria nell'area della villa quindi la villa non è stata scavata solo perimetrata sulla base di quello che si vedeva in superficie però appunto va fatto notare prima di tutto che la villa si affaccia direttamente sul decumano massimo e non aveva un alto morfologico naturale su cui fondarsi quello che abbiamo capito è che è stato fatto un terrapieno per costruire la villa questo terrapieno poi nei suoi lembi è vicino al fossato a uno dei fossati del decumano massimo anzi a un certo punto questo povero fossato è stato anche usato come discarica di macerie oltre che come collettore fognario ma questo si capisce nell'economia generale quindi abbiamo fatto appunto dei transetti sui due fossati laterali del decumano massimo e poi altre zone che erano interessanti un'altra particolarità è stata questa piccola necropoli che noi abbiamo trovato a margine di uno dei fossati del decumano massimo la cosa stupefacente non era che ci fosse una necropoli lungo una strada in età romana era la regola il problema è che questa era dentro la strada questa grande strada su terrapieno con questi due profondi e grandi fossati laterali in un punto che riguardava ancora la struttura del terrapieno ha ospitato una piccola necropoli una necropoli di incinerati databile agli inizi del primo secolo dopo Cristo quindi l'idea era che questa necropoli sfruttasse come si è visto anche nelle valli grandi veronesi a Villa Bartolomea intervento che è pubblicato nello stesso volume dei quaderni di archeologia del Polesine che questa piccola necropoli probabilmente degli abitanti non credo dei signori di persone di particolare agiattezza ma comunque dei lavoranti di chi stava coloni, affittuari aveva deciso di mettersi di scegliere un terreno particolarmente sacro come sapete le strade romane non si potevano toccare o modificare quindi era un terreno sicuro, rispettato che andava bene anche per le sepolture ecco veniamo un attimo questo è un particolare un po' ingrandito del reticolo di fossati e canaletti della bonifica romana che abbiamo indagato nel 1999 allora per semplificare si è visto che ovviamente la bonifica è un sistema a caduta cosa significa questo? che c'è un'organizzazione di canaletti fossati è stata dura anche dargli una nomenclatura perché in realtà sono tutti sinonimi nella lingua italiana ma si parte dalla raccolta più superficiale delle acque quindi le canalette minori che sono poco profonde le quali poi vanno a scaricare nei fossi invece più profondi e più larghi i quali a loro volta vanno a sfociare o nei canali nei cardines minori che poi finiscono nei fossati laterali del decumano massimo quindi si va a caduta nella raccolta delle acque approfondendo e allargando sempre di più la dimensione dei corpi scolanti quindi questo questo sistema ovviamente non è eterno scusatemi quindi si è capito anche che ci sono stati dei momenti di disattivazione e di interruzione proprio diciamo le canalette più discordanti che voi vedete in questo schema sono le canalette dell'ultimo intervento che è stato fatto nel momento in cui una parte della bonifica non funzionava più sono riattivazioni successive queste aprono uno scenario che non abbiamo potuto chiarire al momento Eva forse grazie ecco una malora no allora per semplificare ho uso questo schema elaborato da Claudio Balista scusatemi allora il punto di partenza è almeno nella zona di Beverare un terreno è un orizzonte diciamo ancora dell'età del bronzo in stato di allagamento quasi costante quindi una zona paludosa con piante diciamo un un orizzonte di questo tipo questo si trovano davanti ai romani quando impostano la bonifica e la rete di fossi fossati eccetera quindi vedete la prima immagine è appunto la palude di questa zona poi il primo atto è lo scavo dei canali secondo la gerarchia che vi ho detto quindi questi canali vanno i principali sono molto profondi nello scavare questi canali ovviamente la terra di risulta viene lasciata ai lati dei canali stessi ora questa prima operazione e lo si vede dai sedimenti fa il suo lavoro quindi i canali si riempiono di acqua che corre molta acqua quindi si comincia ad asciugare il terreno quindi questa prima impostazione della bonifica è una vera e propria bonifica l'obiettivo è di togliere l'acqua dal terreno e rendere il terreno coltivabile quando avviene tutto ciò ecco non abbiamo dei grandissimi dati però è un fatto che i materiali collegabili con lo scavo il primo scavo dei canali della centuriazione si è legato a materiali a ceramica grigia quindi non troviamo terra sigillata solo questa ceramica grigia e quindi possiamo pensare a un orizzonte cronologico tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo quindi al termine di tutta una serie di attività che da parte dei romani di cui poco sappiamo dal punto di vista storico lo vediamo archeologicamente che hanno puntato su Adria quindi ci sono le grandi strade consolari e non sto qui a tirarne fuori ma molto vicino a questa alla costruzione della rete delle diciamo della grande comunicazione terrestre c'è la creazione anche di questa campagna del porto di Adria che ancora funzionava e ancora era strategico per i romani e parlo diciamo del momento in cui ancora Aquileia non è o non è fondata o non è ancora decollata quindi Altino ha un suo ruolo ma Adria ha una diciamo una tradizione consolidata dietro di sé e un rapporto col bacino comunque della pianura padana che le dava un diciamo un allure tutto particolare quindi questa città che i romani fanno rientrare nella loro orbita tra secondo e primo secolo avanti Cristo ha bisogno di una campagna ha bisogno di cittadini ha bisogno di agricoltori e quindi viene creata questa imponente sistemazione agraria quindi la possiamo collocare lì ecco per ora i dati che abbiamo ci confortano in questa adattazione poi cosa succede una volta eliminato diciamo l'acqua in grande stile questo diciamo il movimento d'acqua all'interno dei canali è più stagnante è più lento i depositi danno l'idea appunto che l'obiettivo del prosciugamento della zona sia stato raggiunto i canali adesso servono più come irrigazione più che come bonifica quello che si osserva è che c'è un primo livello di riempimento di questi canaletti poi a un certo punto è costante il ritrovamento di queste zolle con conchiglie di acqua dolce che ha portato a pensare che fosse la caduta di tutto questo di questi arginelli che erano fatti con le zolle residuali dello scavo dei canali ributtate dentro perché perché finalmente si comincia ad arare e a coltivare i campi e quindi c'è la vera fase di attività della della rete diciamo della catastro agrario ed è questa una fase dell'avanzato primo secolo avanti Cristo dopodiché c'è sembra esserci un piccolo periodo di abbandono una seconda riattivazione che si pone nel primo secolo dopo Cristo dopodiché in realtà questo sistema è difficile da gestire l'avevamo già capito e ne aveva già parlato Raffaele si vede come tutte le fragilità idrauliche della zona ricadano anche nella centuriazione impaludamenti perché abbiamo ben due livelli di torbe non quelle di cui parlava la professoressa Piovan prima quelle sono molto più antiche stanno sotto ma chi scava in Polesine in basso Polesine sa che c'è una linea di torbe che rappresenta il discrimine tra epoca antica e epoca moderna ecco qui sono state trovate addirittura due livelli di torbe che riguardano impaludamenti che noi possiamo collocare nella media età imperiale il vero collasso però e il cambiamento di paesaggio arriva con le grandi alluvioni le grandi piene dell'Adige quelle che si insinuano come aveva già dimostrato Raffaele si insinuano nel nel reticolo dei canali e di fatto chiudono tutto quindi siamo nella diciamo in quelle rotte ben descritte da Paolo Diacono e con quello si chiude la partita ora questo modello questo che vi ho illustrato sarebbe appunto da verificare anche in altri punti della centuriazione perché è così che funziona Beverare e negli altri luoghi non lo sappiamo per quanto riguarda i reperti una cosa molto veloce anche qui ho utilizzato le schede e le documentazioni del gruppo archeologico di Villa Dose e quindi vi parlavo della ceramica grigia di questa ceramica di tradizione locale che è la ceramica di uso comune nel periodo della romanizzazione ecco vedete in alto a sinistra ce n'è una notevole serie qui la fibula è una fibula invece diciamo a cavallo tra primo secolo avanti Cristo e primo secolo dopo altri reperti in superficie e sempre pensando a questi passaggi a questa diciamo fase tra secondo e primo avanti c'è qua parlerebbe meglio di me la professoressa Gambacurta il manico di una paletta votiva in bronzo qui cominciano a esserci invece poi anche frammenti di ceramica di terra sigillata il pezzo più notevole per cui questo scavo si ricorda è questo piccolo bronzo che meriterebbe un po' di studio ho cominciato a darci un'occhiata con più attenzione viene identificato come una menade potrebbe essere certamente è un modello di menade danzante non banale non di quelle che uno trova in ogni manuale modello sicuramente ellenistico anche di un certo livello le pieghe eccetera a cosa serviva questo bronzetto così singolare perso nelle campagne di san martino di venezia faceva parte di un larario faceva parte di qualche piccolo altare domestico era in realtà un elemento di un corredo funerario che poi l'aratro che qui ha sconvolto parecchio ha portato in luce è difficile dirlo ecco ovviamente certamente è uno è un bel pezzo perché apre come dire una finestra su una certa finezza da parte dei proprietari di questa antica fattoria grazie della pazienza ringraziamo appunto la dottoressa Bonomi è una bellissima presentazione questa archeologia del paesaggio ecco a proposito del giudice che doveva forse sarebbe stato molto molto perplesso ed incerto nel far bloccare i lavori o non consentire la 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 registrazione di queste interessanti testimonianze e anche per l'integrazione e con il taglio appunto anche archeologico